La vostra diocesi è una diocesi della costa, come la nostra, Mazzara del Vallo, che è di fronte al mar Mediterraneo. Come vedete le migrazioni? Come una problematica o come una risorsa? Il fatto che la diocesi sia costiera non è molto importante, perché la rotta delle migrazioni passa per il Marocco. La migrazione è un'immigrazione importante, numerosa, e si assiste da diversi anni a un inserimento, non soltanto ad un passaggio. Quindi l'Algeria diventa non solamente un paese di emigrazione, di transito, di passaggio, ma di immigrazione. E questa sarà un'opportunità per il paese. Nel 1996 il vescovo Pierre Claverie è stato ucciso in seguito a una bomba che era stata posta nel vescovado. Vi sentite come una diocesi di frontiera? Nel 1996 l'Algeria era in guerra civile. Ci sono stati 200.000 morti, di cui un centinaio di imame, un centinaio di giornalisti, di personalità pubbliche. Tra loro ci sono stati anche dei religiosi e delle religiose che sono stati uccisi. 18 in totale più un vescovo. Ed è in questo contesto che bisogna inquadrare la morte di Pierre Claverie. Oggi il contesto è diverso. L'Algeria è una delle regioni che può essere sia inquieta, ma l'Algeria vive in pace e io credo che l'Algeria sta organizzando il suo futuro. Qual è l'importanza del livello di dialogo interreligioso? E quali sono, se ci sono, i segni principali della convivenza tra i musulmani e i cristiani sul territorio della vostra diocesi? Il dialogo interreligioso non è un'opzione oggi. Le differenti religioni sono presenti ovunque. Ci sono delle difficoltà nei rapporti tra i paesi e tra le religioni. Ma dunque bisogna vivere insieme cristiani e musulmani e non possono farne a meno di vivere assieme. La differenza è un'opportunità. L'arcivescovo di Dakar ci ha detto che la differenza bisogna amarla, non soltanto subirla o accettarla. Ed è questo quello che noi viviamo. Allora è vero che nel quotidiano in Algeria ci sono delle differenze tra i cristiani che sono stranieri, e questa è la questione anche della Chiesa, che sono in Algeria perché la vita li ha condotti per ragioni diverse, studi, migrazioni. La vita per loro è relativamente facile, è più complicato per gli algerini che diventano cristiani, per i quali si registrano degli ostacoli, delle difficoltà. Lì c'è tutta un'accettazione sociale, familiare, più che politica e legale nei loro confronti. Quindi bisogna avere pazienza, bisogna avere molta discrezione, bisogna anche non tagliare i rapporti con il loro paese, con i loro amici, con i loro colleghi, e dimostrare di essere pienamente attori sociali.